Per la presidente della Dispoli Sabrina Fioravanti si è chiusa una stagione che è stata positiva. L'obiettivo è di fare ancora meglio per il prossimo anno. Lo ha detto la Fioravanti nel corso di una conviviale alla Dispoli. Sì, sono contentissima, però pensavo di andare più in alto, però va bene così. Possiamo dire che la sua gestione è stata una gestione oculata. Molti erano un po' scaramantici quando dicevano sì, una donna prende i Ladispoli, però lei credo che abbia assolto tutti i suoi doveri. Oggi la gente è contenta della sua gestione? Sì, diciamo di sì. Tutti quelli che mi incontrano sono tutti felici e contenti. Che Ladispoli sarà il prossimo anno? Penso una grande Ladispoli. Sta già capendo come organizzare la squadra, la dirigenza? No, no, ancora nulla, non abbiamo deciso nulla. Prossimamente, nei prossimi giorni. Ecco, che desiderio ha se dovesse essere eletta a consigliere comunale? Tante cose si possono fare per questo paese. C'è molto da fare per le persone disagiate. Sappiamo che la sua scelta è stata anche una scelta dettata dal cuore. Suo padre è stato per tanti anni consigliere comunale, quindi l'ha fatto soprattutto per lui? Anche per lui, che sicuramente è contento.